Abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione, anche stavolta non ci hanno visto arrivare. Voglio dire alle donne di questa nazione che il fatto di essere sempre o quasi sempre sottovalutate è un grande vantaggio. Perché sì, spesso non ti vedono arrivare. Qualsiasi cosa io abbia fatto nella mia vita, i più hanno scommesso sul mio fallimento. C'entra il fatto che fossi una donna? Probabilmente sì. E noi dobbiamo essere consapevoli di questo vantaggio, purché non siamo vittime di quel pregiudizio. purché noi non consideriamo che il ruolo che altri hanno definito per noi sia anche il ruolo al quale possiamo ambire.